Cappellacci vorrà una rosa formata da 10 senior al massimo e da 11 under. 21 è il numero ideale secondo il neotecnico Rosso Blu. La dirigenza sta lavorando alla cremente per allestire un pacchetto under all'altezza della situazione e che vedrà la riconferma certa di Tucci. Cianci verrà sicuramente portato in ritiro per essere valutato dal tecnico Rosso Blu. Non muta la situazione relativa a Conti al centro di un tire in molla nel quale il procuratore gioca un ruolo non di poco conto. Quest'ultimo vorrebbe il portiere senese in Lega Pro. Lo stesso giocatore tuttavia non è che disdegnerebbe un nuovo anno in Rosso Blu. Vedremo chi l'avrà vinta tra il Campobasso ed il procuratore di Conti. C'è da rifare una squadra per intero in bilico Conti, Fusaro confermato, la società sta valutando pure la posizione di Fazio. Mentre in attacco rimane il solo Todino con le partenze di Miani, di Gennaro, Vitelli e Lazzarini. Attacco da ricostruire ma non solo. Anche a centrocampo sono sicuri divorzi da Pani e Vitone da valutare l'eventuale permanenza di Marinucci Palermo. In difesa Scudieri pure è destinato a fare le valigie così come l'altro portiere classe 95, Francesco Maggi. Insomma non manca di certo il lavoro ad allenatore e direttore sportivo specialmente in ragione dei nuovi obiettivi prestigiosi dichiarati pubblicamente. Il Campobasso aveva pure dimostrato un certo interesse per l'attaccante under del Riccia Yellow, il quale starebbe pure subendo il corteggiamento del Monopoli. Squadra di Serie D che ancora non termina la propria stagione regolare perché impegnata nelle semifinali dei play-off. Evidentemente la società rosso-blu deve dare segnali di vita se davvero tiene all'ingaggio del talentuoso giovane destinato a categorie diverse dall'eccellenza molisana. Il Campobasso starebbe seguendo anche un altro under che si è messo in bella mostra nell'eccellenza abruzzese. Si tratta di Mattia Balzano, classe 96, laterale basso, lo scorso anno in forza nella Vastese. La situazione del portiere Pizzolato, classe 95, in forza al Brindi, si rimane in stand-by in attesa di notizie più precise da parte di Conti. A proposito dei senior, difficile che possa aggiungere in rosso-blu l'attaccante che è stato a Cosenza, Elio Calderini, restio a rascendere dalla Lega Pro alla Serie D, mentre si attenua la pista che porta Romano Tozzi-Borsoi della Samb, squadra da cui il Campobasso sarebbe intenzionato a prelevare Napolano. Le intenzioni della dirigenza rosso-blu sono quelle di portare a compimento l'organico entro fine mese, al massimo nei primi giorni del mese di luglio. Cappellacci vuole un ritiro che inizi 40 giorni prima della prima gara ufficiale. Proprio per questo gli allenamenti dovrebbero iniziare intorno al 15 luglio a Castel di Sangro, ma non si esclude che il gruppo rosso-blu possa svolgere la preparazione atletica in una località molisana che sembra difficile possa essere Campitello Matese.